Emma Marrone non ha potuto trattenere le lacrime di gioia quando, pochi minuti fa, una notizia inaspettata è giunta in redazione. Prima di continuare, ci teniamo a chiedere il vostro prezioso supporto. Un piccolo gesto, un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di enorme importanza. Grazie di cuore. Emma Marrone ha toccato i cuori dei suoi fan con il suo ultimo album, Souvenir. L'artista ha anticipato l'uscita di questo straordinario disco con i singoli, Mezzo Mondo, e, iniziamo dalla fine, presentando un progetto composto da otto tracce e una bonus track. In questi giorni, Emma sta dedicandosi alla promozione di questo album, che rappresenta per lei una vera e propria rinascita artistica. Souvenir, è un'autentica resa, un atto di coraggio in cui ha deciso di togliersi l'elmetto e la corazza, di non temere di realizzare ciò che desidera e di affrontare il giudizio altrui. Emma stessa, commossa, ha dichiarato, ho deciso di mettere giù l'elmetto e di levarmi la corazza, di non aver paura di fare le cose che voglio fare e di essere giudicata. Emma Marrone, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente svolto il ruolo di giudice esterno in una trasmissione televisiva, dove ha consigliato agli aspiranti artisti di liberare le proprie fragilità. A Milano, ha avuto l'occasione di incontrare i suoi affezionati fan, scambiando chiacchiere e selfie. E proprio durante uno di questi incontri, ha ricevuto una notizia straordinaria. Il suo album, Souvenir, ha raggiunto la prima posizione nella classifica. Questo momento di gioia e emozione è stato immortalato in un video sui social, dove Emma ha voluto ringraziare il suo team e i fan per il sostegno ricevuto. Il successo di, Souvenir, è un trionfo non solo per Emma Marrone ma anche per tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo capolavoro musicale. Emma ha dimostrato che la sua musica è un'esperienza profonda e autentica che ha toccato il cuore di migliaia di persone, confermandosi come un'artista straordinaria. Ci teniamo a chiedere il vostro prezioso supporto. Un piccolo gesto, un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di enorme importanza. Grazie di cuore.